con questo segno protagonista del momento, del periodo. E' chiaro, le difficoltà ci sono, non mancano, perché adesso questi transiti che ci sono nel segno del Sagittario, Marte e Saturno, che transitano proprio lì in quadratura, possono complicare di molto la vostra vita, ma in questo momento voi avete la tenacia, avete anche l'energia mentale oltre che fisica per far fronte a qualsiasi problema. Questi transiti avvengono in un settore che per voi ha a che fare con la professione, con la voglia di credere nelle proprie possibilità e con la vostra ambizione. E allora cercate di mettere in pratica un progetto, un'idea che voi avete in testa, anche se questo dovesse presentare delle grosse difficoltà. Dovete essere, insomma, disposti a combattere l'amore che ha creato qualche piccolo problema nelle ultime settimane, piano piano sta tornando a darvi quello di cui avete bisogno, fino a quando poi Venere entrerà nel vostro segno, e allora ci sarà un riequilibrio nella vostra situazione sentimentale.